La festa è di tutti noi, scelti e chiamati da Gesù. Siamo nati tutti a vita nuova, un solo corpo siamo in lui. Che differenza c'è tra tutti i santi e i santi del calendario? Diciamo che quelli del calendario, cioè i nostri santi patroni, quelli che la Chiesa ha ufficializzato, sono santi come tutti noi. Ma per un dono ulteriore di grazia e soprattutto per una loro personale e generosa risposta, sono stati trovati degni di entrare in Paradiso e di essere posti come esempi e intercessori per tutti noi. Fra noi e loro c'è quindi una differenza qualitativa circa la risposta al battesimo ricevuto, che ripeto, è anche conseguenza di un ulteriore e misterioso dono personale. Padre Pio soleva dire che, se Dio avesse fatto lo stesso dono al peggior uomo della Terra, avrebbe fatto meglio di lui. Nel nostro percorso, per facilitare le varie spiegazioni, scriveremo i santi del calendario con la S maiuscola. Eccoci qui, davanti al Re, tutti salvati da Gesù. Eroi santi feccatori, ma bisognosi del tuo amore. Eroi santi feccatori, ma bisognosi del tuo amore. Eroi santi feccatori, ma bisognosi del tuo amore.